Il Collegio di Fiaipo Monservianza partecipa al Job Week di Cilisello nella prestigiosa villa d'Irlanda dal 15 al 17 novembre dove ci saranno incontri con la cittadinanza per la formazione e l'avvio alla professione. Altra importante iniziativa è lo sportello immobiliare che è in fase avanzata e presto sarà a disposizione di tutti i cittadini di Cilisello Balsamo e poi esporteremo anche nel comune di Goncorezzo e nei comuni della provincia di Monza e Brianza. Lo sportello immobiliare è un servizio assolutamente gratuito per i cittadini di prima consulenza, diciamo tecnica commerciale e giuridica. Noi siamo parte della filiera immobiliare, abbiamo contatti con l'intera filiera grazie ai contatti quotidiani con i notai, i tecnici e quant'altro. Quindi questo vuole essere un primo approccio per i cittadini che volessero avere informazioni, ad esempio, su come gestire un'eredità, un immobile giunto in eredità, ma è solo uno dei tanti esempi che si possono fare in maniera assolutamente gratuita.